Se la transizione ecologica non tiene conto delle esigenze di lavoratori ed imprenditori, delle loro esigenze reali, si rischia che la questione resti solamente ideologica. È netto il giudizio del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti nel suo intervento alla Camera di Commercio di Frosinone Latina nel giorno in cui dall'Unione Europea arriva lo stop alle auto a diesel e benzina a partire dalla 2035. Bisogna fare i conti con le esigenze degli imprenditori, ma soprattutto con le esigenze dei lavoratori, di coloro che lavorano in queste imprese, che rischiano di perdere il lavoro. Lo sappiamo perfettamente, lo dicono in tutte le analisi e gli studi. La mano d'opera impiegata per la produzione delle auto elettriche è esattamente un terzo rispetto a quelle del motore endotermico. E quindi per questo diciamo che la transizione non sarà in dolore. Noi faremo di tutto, chiaramente anche se io personalmente non condivido questo tipo di scelta, faremo di tutto per in qualche modo accompagnare il sistema delle imprese dell'automotive verso questo nuovo mondo. Sul territorio Ciociaro soffre Stellantis con tutto il suo indotto. I giorni di fermo produttivi sono stati una costante. Credo che Stellantis stia cercando in qualche modo di interpretare anche queste nuove richieste, queste tendenze tecnologiche. Adesso con gli incentivi che abbiamo adottato, la ripresa del mercato si sta anche in qualche modo concretizzando. Però non è affatto facile rispetto al fatto che le catene di approvvigionamento talvolta saltano tutta la telematica dei semiconduttori, dei microprocessori. Ed è comunque un settore dove noi stiamo cercando disperatamente di convincere Stellantis e altri produttori a continuare a credere nel paese e credere nella possibilità di produrre qui e non altrove. Tante aziende ciociare hanno dovuto fare e devono fare conti con la burocrazia ed il caso Catalan ce lo ricorda. Quello che dobbiamo dare è comunque al minimo, come de minimis, un quadro di certezze e di risposte chiare a tutti coloro che vogliono fare impresa anche in queste zone. La Camera di Commercio dal canto suo rinnova l'appello a fare squadra in un momento così delicato. Il ministro Giorgetti ha parlato la lingua dell'impresa, questo lo voglio dire. Oggi mi sembrava di non parlare con un esponente politico ma che in qualche modo si è messo anche in discussione su alcune tematiche importanti come lui ha ricordato alla platea rispondendo puntualmente a tutte le osservazioni delle imprese. Quindi i temi come la transizione ecologica, soprattutto come ha ribadito lui, energetica e il tema che non deve gravare questa transizione è che noi imprese la vogliamo, ma non deve gravare in maniera così eccessiva sulle imprese stesse. Quindi per raggiungere determinati obiettivi occorre che, come lui ha detto, occorre in qualche modo un minimo di concertazione, stabilire i tempi e quindi semplificare la burocrazia.